Ho fatto un regalo per voi, ve li dà Luca, è una maglietta con il volto stilizzato di Federico, ne ho fatte fare tre, così almeno c'è anche per Cristina. Allora rimarranno qui con noi, Cristina, se ti metti un pochino più qui, magari vedono tutti. Allora, la prima squadra, la squadra che voglio presentare è la squadra di Mentana, quindi facciamo un applauso, la squadra di Mentana venga qui, facciamo parlare un ragazzo. Venite qua. Ma parla Alessio De Cicco, va? E' respirato? Dai, vieni, vieni, vieni. Spiacciato. Dai, vieni, vieni. Facciamo parlare a Maurizio? Una parolina, una parolina solo, dai. Vieni, Maurizio. Due paroline, insomma, per quanto riguarda la nostra squadra. Parla Maurizio Cuccini. Io penso che a prescindere da tutto oggi, a prescindere dai risultati, a prescindere da come si giocherà, eccetera, eccetera, la cosa più importante, appunto, è ricordare Federico e soprattutto nel suo nome riuscire a fare del bene nei confronti di qualcuno. Quindi comunque penso che sia una vittoria per tutti quelli che giocheranno oggi e che sono qui a vedere la partita. Grazie. Grazie Maurizio. Allora, adesso voglio i ragazzi dei Casali.